...un po' particolare nell'ambito della lettera di Marco Legano, già un'artista brasile, molti di voi forse conoscono già che cosa andiamo a presentare perché questo è un libro di favole, infatti dei conti sarebbero la fiabe delle fiabe un libro di fiabe molto particolare perché nel 600 non si potevano fare critiche o osabile come adesso in televisione ai potenti perché naturalmente si rischiava rosso e questo autore che ha avuto la fortuna tramite la sorella che era una cantante molto importante del tempo, Adriana Cassini, pensate che per lei fu un nome la virtuosa per dire che una persona che aveva una grande capacità di cantare in maniera sottile e lei frequentava tutte le corti più importanti e portava insieme anche il fratello e quindi il fratello che era una persona amante di un po' di intervento con un corso estero creativo, lui ha creato poi tutto, poi i poesie, i racconti, i gaberi che lui è diventato famoso, anche i testi per canzoni, i testi teatrali viveva nelle corti e capiva tanti rapporti segreti, anche le magagne, anche le sculture, le cose nella vita e voglio raccontarvi, però raccontarvi in modo più avvisco, facendo finta che si trattasse di un attivamento per i bambini, in modo sicuramente più attivate invece di parlare di cose serie e di mettere anche la vernina, vizi e virtù e quindi quello che ha scritto ha un grosso valore storico e anche di costume dell'epoca, ma anche un grosso valore veterario, perché è stata una epoca marocca e quindi c'è la ricerca della parola in dei teati di scrittura in cominciano a capire il gusto della parola di una se stessa. Infatti vedrete il lavoro splendido che ha fatto Mario anche di direttore di interpretazione e di trasmissione di questo testo, come c'è proprio un amore per la parola contaminata poi da tanti linguaggi, dal linguaggio, dalla lingua sbagliola, dal napoletano. E infatti in Basile diventa così uno dei punti di riferimento per studiare la letteratura napoletano nel seicento, un'operazione quindi di grande cultura, però un'operazione anche che arriva al pubblico facilmente, perché un grande sforzo, una grande bravura di Mario è stata questa, di leggere un testo così serio, così importante, però di trasformarlo attraverso l'arma che abbiamo, che è il teatro, la letteratura, la lettura espressiva in un modo che arriva veramente al cuore, che ci fa sorridere, quindi ceneva naturalmente perché ci metterà nel mondo del mondo del seicento però con la proprietà, ma ci arriva anche al cuore, perché ci fa capire anche un modo di vedere la vita erotico e sagrante che sicuramente è bello. Quindi io adesso faccio il presentatore e mi nasco come spettatore di questo lavoro, perché l'ho apprezzata la prima volta proprio da spettatore che è rimasto incantato dal lavoro che loro hanno fatto, un lavoro che anche è un momento musicale, abbiamo qui due eccellenze, oltre a parlare in un'accia come un'eccellenza recitativa, oltre sono due eccellenze della musica popolare, che vi voglio un applauso per tutti, l'ho anche un applauso per tutti, perché oggi abbiamo due eccellenze, perché oggi a Raffaele Stagliano è Maria, abbiamo anche Giulio e sono tre grandi musicisti che faranno dei commenti particolarmente significativi in merito proprio a quella grana musica di quell'epoca e vorrei fare una piccola, ma allora prima di iniziare. Come avete iniziato ad occupare della musica popolare, ora c'è un amico a Mosca che ci ha fatto conoscere questa musica, da molti, molti anni fa, abbiamo iniziato, era anche un buro, ma anche con l'ansia popolare, poi da un po' lo abbiamo fatto con la musica popolare, poi abbiamo fatto parte di gruppi, le tipiche bananze che si occupano di da muriante, di pizziche e quindi ci siamo vicinati proprio alla musica popolare della carta, della cantata dal vecchietto, della ballata dalla vecchietta ad una carta muriata. E poi abbiamo incontrato Mario e abbiamo visto insieme queste conoscenze con la lettera di traccia. E so, Raffaele mi ha dato anche una grande soddisfazione, vero che la pubblicazione del Cd è stato un contributo, una partecipazione di Maria a questa paranza del Pione, che praticamente è Antonio Matroni, che si interessa alla produzione di, non solo di strumenti tipici di un tempo, ma anche perché prosegue la diffusione del canto popolare, soprattutto della cantata muriata, che è Paolo Sassone. Grazie. 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 Grazie.